La crisi economica del 2009 ha segnato un forte interesse da parte degli utenti, da parte delle aziende, da parte degli stessi consumatori verso un profilo etico della comunicazione. Etica che certamente si ripercuote in quelle che sono le comunicazioni su internet e sul web. Il ricorso a principi etici certamente può sviluppare quell'uso responsabile e consapevole della rete, aumentando i profitti, aumentando la produttività per le aziende stesse e migliorando il rapporto tra aziende e consumatori. Di etica se ne parla tanto. Etica è un comportamento che l'utente di internet decide di osservare nel momento in cui utilizza le applicazioni più comuni. Parliamo di Facebook, parliamo anche del peer-to-peer, cioè di applicazioni che possono essere utilizzate per fini legali, leciti e vantaggiosi, o allo stesso tempo per fini illeciti, illegali e certamente che vanno a creare svantaggio alla comunità stessa. Un senso etico è certamente auspicabile nell'immediato futuro per avere un internet sempre più libero e lontano da finalità censorie o leggi che certamente possono andarlo a ristringere o a chiuderlo definitivamente.